e allora abbiamo fatto i calcoli i ricchi in italia poi dichiareranno di meno eccetera ma sono chi guadagna sopra un milione all'anno e i ricchi dell'istat sono quelli guadagnano più di un milione all'anno sono soltanto quanti 2366 chi guadagna sopra 10 milioni sono 28 prima erano 29 perché ce l'ho anch'io adesso invece è calata la pubblicità e sono rimasto poi pago gli alimenti sai carica lasciamo perdere mi è venuto un colpo di tristezza va bene comunque